buongiorno buongiorno amiglia allora prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale a condividerlo con tutti i tifosi della fiorentina che conoscete mi raccomando che continuiamo a crescere e vi invito a scaricare one football applicazione che trovate in descrizione che vi dà notizie di mercato quindi a gennaio ancora più utile news pronosti statistiche articoli potete personalizzarla con la vostra squadra del cuore ve la lascio in descrizione il link vi consiglio di scaricarla stasera processo gran processo al campionato quindi attivate il campanaccio potete farmi tutte le domande che volete io risponderò ma adesso facciamo un po il punto sulla fiorentina dopo la gara di ieri allora lo spettacolo non è stato granché diciamo che è vero ma sono stato il primo a dirvelo che iachini non è stato chiamato per far spettacolo è stato chiamato per in un modo o nell'altro diciamo cercare di fare punti ad oggi a causa anche proprio della del modo in cui è sbagliato in cui è stata costruita la squadra della gente che si è presa tocca giocare come una provinciale qualsiasi per cercare cioè non è che è un modo per far punti è un modo per limitare i danni e per fare una roba semplice cercando di ripartire e cogliendo delle opportunità però oggettivamente è anche vero che ieri non giocavi contro una squadra di medio livello giocavi contro l'ultima in classifica in casa e nonostante questo hai fatto un possesso palla del 40 per cento allora io non ho niente contro iachini ve l'ho detto cento volte capisco quello che sta cercando di fare quello che può fare quello che può fare che è questo però sono un po' preoccupato perché i nostri prossimi impegni di campionato e di coppa non sono purtroppo contro la spal contro il benevento contro il crotone contro squadre di questo tipo purtroppo abbiamo atalanta napoli genoa e juve sono partite molto complesse dove non so se tu fai la partita che hai fatto ieri non so cosa puoi riuscire a fare ok poi avrai anche la scusante che a parte il geno incontrerai tutte squadre più forti di te però i punti alla fine quelli sono e sono preoccupato ma non è un rimprovero che faccio aiachini nel senso che è un rimprovero cioè sono preoccupato da che sta squadra è stata messa su è stata messa in campo da che si è notato cosa abbiamo per le mani e questa la mia maggior preoccupazione oltretutto dal mercato di gennaio sebbene sia arrivato un giocatore che come sapete come sappiamo ci piace cioè cutrone quindi siamo anche contenti però non era quella la priorità del del mercato era il famoso centrocampista adesso io leggo che il primo da qualche tempo il primo obiettivo è sto duncan allora io approfitto di sto video per dire cosa ne penso a me pare un giocatore normale mi pare sto duncan ma poi ci sono altre due cose che vanno dette il costo ma scusate ma se io devo spendere 15 20 milioni per duncan avendo ceduto a 17 18 vere tu qualcosa non mi torna ok per me duncan è un giocatore normale è un giocatore normale avete visto c'era gente che mi diceva parli sempre di fofanà o gente che diceva fofanà è scarso fofanà ti impunti su fofanà è scarso avete visto la partita che ha fatto ieri con l'udinese due assist ha fatto oltretutto c'è gente che dice fofanà costa troppo ma non mi pare che i soldi che il sassuolo chiede per duncan siano pochi io non sono convinto che l'udinese per fofanà chieda più soldi di quelli che il sassuolo chieda per duncan io questo non lo so e comunque se anche ammesso non concesso che chiedesse gli stessi soldi cioè attorno ai facendo una media spannometrica 18 milioni comunque a parità di costo preferirei andarmi a prendere il buon fofanà ok ma vi dico di più ora dirò una pazzia ma tra tra duncan e me ite stesso avrei qualche dubbio non sarei così sicuro di andare su duncan è un giocatore che non è che mi faccia impazzire ma poi vi dico di più prendiamo duncan su indicazione dell'allenatore ma noi compriamo un giocatore magari a gennaio che costa attorno ai 18 milioni su indicazione di quello che dovrebbe essere un traghettatore che poi magari arriva un nuovo allenatore ed anche non è funzionale allora allora forse è meglio a ponderare e fare un acquisto alla cutrone cioè che possa andare bene anche al nuovo allenatore ma che sia anche funzionale al nuovo corso e fofanà secondo me lo è di più oppure forse non è proprio così così traghettatore iachini chi lo sa comunque questa è la mia opinione detto questo ho sentito le dichiarazioni di iachini che non ha chiuso al discorso ma ci mancherebbe altro perché io questo lo pretenderò in pieno al discorso di vedere chiesa a tutta fascia io vi ripeto è la soluzione più razionale possibile ce ne sarebbe anche un'altra che concedo che darebbe anche più spazio a a sottile perché giustamente molte persone stanno dicendo ma sottile che fine fa avete perfettamente ragione avete sono completamente d'accordo con voi ci sarebbe una soluzione che si potrebbe usare che darebbe spazio a sottile il 4-4-2 che però andrebbe un po' a delegittimare l'irola perché giocheresti con casser e sterzino sinistro basso che ci può stare pezzella milenkovici al centro l'irola a destra esterno destro alto sottile a centro campo puoi mettere pulgare castrovilli o sì vanno bene loro due perché quelli hai e a sinistra puoi mettere chiesa esterno sinistro e in attacco cutrone vlaovic può anche essere questo io concedo anche questo che ha il pregio di far vedere sottile ma quello che non concedo è che vlaovic e cutrone vengano messi in concorrenza questo sarebbe un grave errore anche perché mi pare ci sia già un buon affiattamento tra i due se ieri cutrone segna quel gol un rimpianto caspita per quel gol se cutrone segna quel gol stupendo viene giù lo stadio ma io vi ripeto cutrone vlaovic devono giocare assieme devono essere i nostri lukaku nel ruolo cioè vlaovic nel ruolo di lukaku e cutrone nel ruolo di lautaro con i dovuti paragoni ma questo deve essere il senso e non transigo mi dispiace mi dispiace chiesa si dice che non è in forma che vuole farlo giocare punta fin tanto che recupera la condizione poi anche qualche volta lasciarlo fuori e far giocare dalbert oppure ancora meglio visto che dalber sta facendo delle prestazioni abbastanza non all'altezza farci vedere sto benedetto terzi non dico ranieri che magari boh forse un po acerbo non è dato a far tutta la fascia ma terzi perché non si può vedere sto terzi cio al posto di dalbert cioè allora scusa ma come mai dalbert e e boateng devono devono giocare così tante partite hanno hanno dei numeri che devono far per forza entro la fine dell'anno ma io non lo so ma io non lo so detto questo vi ripeto mi rendo conto anch'io che questa squadra non si possa fare sto gran gioco però io non c'è non sono così convinto che il giocare di catenaccio e contropiede sia un qualcosa che ti porta risultato mentre il tentare di giocare un qualcosa che comunque a prescindere non te lo porta anzi sarai più portato a pensare alla seconda cosa e vi ripeto magari va bene in casa con la spa però vi ripeto ancora una volta non so quanti punti tu possa fare nelle prossime gare se giochi come ieri poi a chi ne ha molte attenuanti è appena arrivato la squadra è quella che è magari sta facendo un richiamino di preparazione magari la squadra in una condizione psicologica non non ottimale tutto quello che volete la mia non è una non è una una cosa che vuol dare colpe all'allenatore o a qualcuno è una mera constatazione un mero dato di fatto questo io dico e a centrocampo vi ripeto se i nomi sono questi tre qua cioè duncan meite e fofanà ma io tutta la vita fofanà anche perché duncan rischi di pagarlo lo stesso adesso vediamo cosa succederà a livello di mercato care grazie che è arrivato cutrone che secondo me è un buonissimo colpo magari sentiremo anche il buon alex restelli in settimana il suo parere e il risultato va bene io adesso mi feccherete nel capo se dovessimo andare in serie b io non ho paura della retrocessione nel senso che io credo che la squadra si possa salvare non cioè sarebbe una cosa con tutto lo schifo che si è fatto diciamo da da in questo girone d'andata abbiamo comunque una media salvezza quindi dovrebbe succedere una tragedia per andare in serie b prendetelo con le pinze ma sono cautamente ottimista ma ci mancherebbe altro che andiamo in serie b nel senso sono cautamente sereno se così si può dire dal punto di vista della serie b però questo non è modo di aver squadre non è modo di costruire fiorentine non non è modo di di aver queste squadre qua sotto mano capito non è questa la fiorentina non è questa a livello di gioco perché noi siamo anzi siamo la contrarietà al catenaccio e all'antigioco storicamente abbiamo come il milan in più grande una tradizione di bel gioco noi non siamo questo a livello tecnico troppo scarsi per carità sono fatti errori li conosciamo però insomma speriamo che st'annata finisca presto possibilmente magari ripeto la mia unica speranza ormai la mia unica soddisfazione non è non è la classifica non sono gli obiettivi perché a parte la salvezza non abbiamo apportato a niente l'unica cosa che mi fa se così possiamo dire piacere sognare è vedere questa alchimia proprio che può crearsi e che reputo potenzialmente molto bella tra vlaovic e cutrone non so se se volete levarci anche quella cristo dio andiamo andiamo non lo so andiamo in spiaggia a gennaio quindi per favore cerchiamo di lavorarci in qualche modo quello adesso a livello tattico e tecnico deve essere il nostro obiettivo primario anche perché può essere un qualcosa di importante non solo per questa stagione ma anche per quelle che verranno perché sono tutti e due giocatori che sono nostri fortunatamente non è gente in prestito gente che è di passaggio ok blaovic è rientrato ha fatto una signora partita cutrone è entrato ha fatto bene per poco segnava un gol pazzesco e castrovilli lo conosciamo vi ho sempre rotto i maroni con castrovilli da tempi sospetti quando non lo conosceva nessuno adesso lo vuole anche il paris san germain sugli acquisti su sto canale qua abbiamo avuto così abbiamo detto bene su ognuno perché non abbiamo sbagliato il giudizio su un giocatore che sia uno finora purtroppo tocca dirlo speriamo di dai io credo che i margini ci siano sicuramente la squadra avrà un po di spero che possa recuperare un po di condizione di confidenza e via dicendo il modulo 352 può essere discusso a patto che comunque si giochi sempre a due con un 442 che valorizzerebbe sottile anche se andrebbe un po sistemato io vi ripeto a me andrebbe benissimo il 352 e sono per il 352 ma con scelte diverse cutrone e vlaovic a fianco chiesa e sottile che può subentrare o al posto di uno dei due davanti o magari anche al posto di lirola se abbiamo bisogno di attaccare purtroppo il 352 avendo cutrone e vlaovic è un modulo che va un po penalizzare la presenza di sottile però è anche vero che hai preso cutrone e cosa c'è sono la situazione diciamo è questa l'unica potrebbe essere vi ripeto il 442 ma tornare i 433 quelle cose là assolutamente no perché non abbiamo la gente per fare i moduli a tre punte neanche a una quindi per forza di cose modulo due punte che sia 352 che sia 442 l'importante è lavorare e la pretendo che si lavori come è stato fatto all'inter bene in poco tempo sull'intesa tra vlaovic e cutrone perché questa deve essere la nostra coppia un bacione un caro saluto a stasera